Bentornati su Resta Quel Che Resta, io sono Nino, in apertura di questo video vi chiedo di lasciare like al video qui sotto, pollicione verso l'alto, un gesto semplicissimo, non vi costa nulla, rapido, indolore, però è molto importante, non sottovalutate questo gesto perché con quella tappata che date al pollicione verso l'alto, date un feedback alla piattaforma e le dite, occhio che questo canale merita, mi piace i contenuti che propone, quindi mi raccomando proponila anche ad altri utenti della piattaforma. Quindi siete importantissimi, ripeto, non vi costa nulla, pollicione verso l'alto. Se non siete iscritti al canale, qui sotto c'è anche un tastino rosso, altrettanto, non vi costa nulla, cliccateci sopra per entrare appunto nel gruppo degli iscritti. Allora, che bella notizia, che bella notizia per un grande appassionato di Edoardo De Filippo come me e come tanti altri di voi, anche che seguono questo canale, visto che portiamo da un bel po' di tempo la rubrica Tutto Edoardo, non a caso ho qui, vedete davanti a me sulla scrivania, i libri, alcuni dei miei tanti libri che ho già letto, ma che riutilizzo ogni volta proprio per creare nuovi episodi della rubrica Tutto Edoardo. Infatti proprio in questi giorni mi sto preparando il prossimo episodio, però in questo caso Edoardo non interpretato da Edoardo ma riproposto, riproposto da altri attori. Perché è notizia di questi giorni che sono terminate le riprese di Filumena Marturano, una nuova versione televisiva con protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. È un film per la tv, andrà in onda su Rai 1, vediamo quando, sono finite adesso le riprese, quindi magari potrebbe andare a fine anno oppure nel 2023, e quindi la Rai nuovamente va a riproporre le commedie di Edoardo, però rifatte, insomma, reinterpretate. Io da grande appassionato quale sono, sono contento di questa cosa perché non faccio parte di quelli che inizia subito a storcere il naso dicendo No, Edoardo è sacro, guai chi lo tocca, nessuno deve permettersi di riproporlo. Edoardo è sacro, per me è sacro, ma se viene riproposto con rispetto, con voglia proprio di omaggiare, e come dico sempre, di farlo conoscere, anche magari alle nuove generazioni che non lo conoscono bene, benvengano. Benvengano tutti questi progetti. Poi la riuscita o meno è un altro discorso, nel senso che vediamo quello che viene fuori e poi giudichiamo, come io stesso ho fatto con i due film tv che sono stati fatti proprio dalla Rai, proposti dalla Rai, Natale in casa Coupello e Sabato, Domenica e Lunedì, con la regia di Edoardo De Angelis e con Sergio Castellitto nei panni del protagonista, nei ruoli che erano stati di Edoardo. Operazioni che non mi sono piaciute, ma non partivo prevenuto prima. Avevo un po' di dubbio su Natale in casa Coupello, perché anche lì andiamo nel testo sacro e soprattutto credo sia proprio molto difficile da riproporre se non sei Edoardo, tant'è che pochi altri hanno tentato. A livello proprio pubblico, quindi grandi attori, prove teatrali riconosciute, io so che pochissimi si sono cimentati in quello. So bene che lo ha fatto per esempio Luigi De Filippo, il figlio di Peppino, però in generale è un testo talmente di Edoardo che in pochi l'hanno fatto. E poi infatti le aspettative erano un po' basse e sono rimaste tali. Però come ho detto, quando ho parlato della seconda opera, ovvero di Sabato, Domenica e Lunedì, meglio Natale in casa Coupello. Sabato, Domenica e Lunedì per me è stato un fiasco totale, tant'è che ha ricevuto anche critiche, ma non perché si è andata a toccare Edoardo eccetera come ho già detto, ma perché ci sono stati degli stravolgimenti, delle forzature nel voler cambiare alcune cose che secondo me alla fine hanno fatto più male che bene. Non credo che accadrà questo in Filumena Marturano, il regista non è più Edoardo De Angelis ma è Francesco Amato, però sono molto curioso e quindi anzi sono molto curioso di vedere, di vedere soprattutto i due attori protagonisti, Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera nel ruolo della protagonista di Filumena Marturano. Allora io su quest'ultima non posso esprimermi perché è un'attrice che non conosco, conosco di nome, l'ho intravista, lei ha avuto questo grandissimo successo negli anni recenti con la fiction Rai in Matataranni che io però non ho visto e quindi, ripeto, conosco talmente poco lei come attrice che non mi sento di giudicare o di dire, ah sì interessante vederla nel ruolo di Filumena, no perché ripeto non la conosco. Conosco benissimo, ma benissimo Massimiliano Gallo perché è un attore che conosco nel senso che ho visto in tantissime produzioni, anche proprio tutte diverse tra loro, cinematografiche televisive, quello che ha fatto a livello televisivo e teatrali, è un attore che stimo tantissimo, ho avuto il piacere di dirglielo, di dirglielo faccia a faccia perché un po' di tempo fa, qualche mese fatto, totalmente in maniera casuale, ci siamo incrociati in un bar alla stazione centrale di Napoli, lui era in partenza per lavoro sicuramente e anche io mi trovavo lì per prendere un treno e ci siamo incrociati appunto in questo bar. Ho avuto il piacere di salutarlo e di fargli i complimenti per uno degli ultimi film insomma che aveva fatto, ovvero Il Silenzio Grande, di cui ho parlato su questo canale. Tra l'altro la coincidenza assurda è che io proprio pochi giorni prima avevo pubblicato su questo canale la mia recensione del film Il Silenzio Grande, con tanto di suo volto bello grosso messo in copertina e quindi ragazzi, anche un po' senza vergogna, vincendo la mia timidezza, l'ho salutato e gli ho fatto vedere la copertina del video dicendo guardi che combinazione, ho parlato di lei proprio pochi giorni fa e lui è stato, a parte gentilissimo, abbiamo preso praticamente il caffè insieme e abbiamo chiacchierato quei pochi minuti, ma poi mi ha chiesto, lui, Massimiliano Gallo, ha chiesto a me di mandargli su Instagram il video della recensione del film Il Silenzio Grande per poi vederla e successivamente l'ha vista, io gliel'ho mandato ovviamente e mi ha risposto, mi ha ringraziato per la bella recensione. È una cosa bella, bella, è un ricordo che porto poi con me e spero prima o poi di incrociarlo di nuovo Massimiliano Gallo, magari dopo che sarà uscita Filomena Marturano, così gli potrò dire anche di questo. Io sono contentissimo di vedere Massimiliano Gallo, protagonista di questo film, nei panni di Domenico Soriano. Ho scritto un post su Instagram su questo, tra l'altro taggandolo e mi ha risposto anche a quello e quindi lo ringrazio anche di quello, perché Domenico Soriano è un personaggio meraviglioso del teatro di Eduardo, beh, tanti, quasi tutti, o forse tutti, sono meravigliosi i personaggi scritti da Eduardo, ma Domenico Soriano è un personaggio potente. Chi non conosce Filomena Marturano, ragazzi, approfitti di questi mesi che mancano prima di questa messa in onda di questa Fiction Rai, di questo film TV Rai, per andare a recuperare tutte le versioni di Filomena Marturano, ce ne sono tante. Poi non so se dopo accenno anche a questa cosa qui. Domenico Soriano è un personaggio forte, è un personaggio altrettanto forte rispetto alla protagonista che è Filomena Marturano. È il personaggio che sa tenere testa a Filomena, sa piegarsi a un certo punto, seppur comunque con amore e con affetto a Filomena, è un personaggio che, come ho scritto su Instagram, riesce a passare nel corso di tre atti da belva inferocita, ferita, perché è stato preso in giro da Filomena, insomma nella parte iniziale, fino poi a cambiare e a diventare più umano, meno cinico, addirittura talmente pieno di umanità e d'amore da andare a riconoscere insomma i tre figli. Ripeto, se conoscete la storia di Filomena già sapete di quello che parlo, altrimenti andate a recuperare, perché ripeto, è importantissimo. Questo, a parte questo progetto, ragazzi, dovete conoscere Filomena Marturano. Anche se non siete appassionati di teatro, se non siete appassionati di Eduardo, se non siete appassionati di cinema, ma ogni tanto vi guardate un film, dovete conoscerla, perché Filomena Marturano è anche una cosa che viene esportata del Made in Italy italiano, perché Filomena Marturano è famosa nel mondo come opera, nel mondo è stata proposta nei teatri di tutto il mondo da compagnie locali, diciamo così, cioè proprio compagnie russe che l'hanno fatta in Russia, compagnie francesi che l'hanno fatta in Francia, in tutto il mondo, all'epoca, ma ancora oggi, ancora oggi nei cartelloni teatrali compare Filomena Marturano. Quindi è qualcosa per cui siamo anche riconosciuti a livello italiano, e allora dovete conoscerla. Conosciuta sia per il discorso appunto nei teatri, ma anche grazie proprio a un film, in questo caso cinematografico, Matrimonio all'italiana, del 1964 se non sbaglio, regia di Vittorio De Sica, protagonisti Sofia Loren e Marcello Mastroiani. Quel film, per esempio, è stato poi esportato in tutto il mondo, tant'è che molte persone di alcuni paesi conoscono Filomena Marturano come la vicenda narrata da Mastroiani e Sofia Loren, e poi magari dopo successivamente hanno scoperto Edoardo, quindi diciamo l'origine proprio di Filomena, e vi parlo proprio per esperienza personale, non mia perché non l'ho scoperta attraverso il film, ma di persone a me care che attraverso quel film conoscevano, e poi io mi sono occupato di portare Edoardo nella loro conoscenza. Molto contento di Massimiliano Gallo, ripeto, non posso giudicare Vanessa Scalera, l'unica cosa che mi fa un attimino impaurire è il non essere napoletana di Vanessa Scalera. Questa cosa mi preoccupa un pochino, ma non perché dici no, devono farlo per forza in napoletana, non è questo il punto. Però ho paura che mi si riproponga quella sensazione non piacevole avvenuta nel 2010, quando proprio in un progetto Rai, Massimo Ranieri portò quattro commedie di Edoardo in TV, una di queste è stata proprio Filomena Marturano, il ruolo della protagonista fu affidato alla straordinaria Mariangela Melato, straordinaria, bella, bravissima, grandissima Mariangela Melato, che però in quella produzione lì non riuscì a convincermi, proprio per il suo non essere napoletana. In generale, insomma, quel progetto lì è stato una forte delusione per me all'epoca, nel 2010, anche se ero contentissimo, e sono contento che sia stato fatto, perché sono state portate le commedie di Edoardo in TV, ed è bello tutto ciò, però un po' la scelta di affidarsi a protagoniste femminile in tutte le commedie non napoletane, con tante attrici napoletane e bravi che ci sono, e anche di farle completamente in italiano, proprio togliendo tutto il dialetto napoletano. Capisco il magari rischiare di non essere comprensibili a tutta Italia così, però no, cioè toglierlo completamente in napoletano secondo me fu una scelta azzardata e sbagliata. Questo nel progetto di Pedro Ranieri. In questo caso, vediamo, perché per esempio la stessa cosa si è proposta adesso con i due film fatti con Castellitto, che non è appunto napoletano, perché poi la cosa è questa, mettono il protagonista o alcuni protagonisti non napoletani, però poi tutto il resto del cast sono napoletani, pur se non li fanno parlare magari nel nostro dialetto. E allora perché poi non uno dei protagonisti, cioè perché uno dei protagonisti non deve esserlo, però io non voglio partire prevenuto per questa cosa nei confronti, ripeto, di Vanessa Scalera, perché la voglio vedere all'opera. Perché Vanessa Scalera è pugliese, ma può restituire una Filomena Marturano eccezionale senza essere napoletana. Non voglio partire prevenuto su questa cosa. Sì, posso dire la stessa cosa fatta con Ranieri, ovvero perché non mettere di fianco al napoletano Massimiliano Gallo un'attrice napoletana, però è una scelta anche della Rai. Tra l'altro i due hanno lavorato insieme proprio nella fiction in Matatarani, che ripeto, io non ho visto se non alcune scene, quindi evidentemente è anche una coppia collaudata. E questo, attenzione, perché può influire, può aver influito sul set, visto che le riprese sono già finite. Proprio il feeling tra i due, che evidentemente già si è creato nel tempo con l'altra fiction, può essere stato anche quello che ti ha fatto venire fuori un grande prodotto in questa Filomena. Non lo sappiamo, lo voglio assolutamente scoprire. Quindi questo, quindi sono molto contento, mi auguro che possa venire fuori un buon prodotto. Oddio, ho toccato la schivania. Sicuramente anche sui social, gli appassionati di Edoardo come me già partiranno, se non sono già partiti, un po' prevenuti, per il discorso che ho fatto all'inizio, Edoardo non si tocca, qualche lo tocca. Ripeto, non sono d'accordo. Se si fa a livello di omaggio, è fatto bene, è una cosa valida. Tra l'altro ho letto, non mi ricordo dove, perché poi ho cercato di nuovo, ma non l'ho ritrovata questa cosa, che forse il regista Francesco Amato ha detto che questo film si basa più sulla versione cinematografica di Filomena Marturano rispetto all'opera teatrale. In effetti ci sono delle differenze tra i due prodotti fatti da Edoardo all'epoca, quella teatrale e quella cinematografica, però la differenza sostanziale è nella parte iniziale. Perché nel film, anche in matrimonio all'italiana, ma usciamo da quello, parliamo proprio del film Filomena Marturano di Edoardo, film al cinema, 1951, credo, c'è la parte iniziale. Cioè c'è il rapporto tra Domenico e Filomena prima dell'inganno di Filomena, del fingersi moribonda per strappare il matrimonio a Domenico. E quella è una cosa molto interessante perché invece la commedia teatrale, per chi la conosce si apre direttamente con Domenico che si prende a schiaffi perché è caduto nel tranello di Filomena. Quindi credo che nel film vedremo anche il pre, diciamo il pre-inganno, i rapporti freddi tra i due, la non curanza di Domenico nei confronti di Filomena. E questa non è una cosa, non è una cosa malvagia. Poi meno male che l'ha già fatta Edoardo, poi l'ha fatta anche Vittorio De Sica, così nessuno potrà dire ah però questo non c'era nell'originale, non va bene, eccetera eccetera. Quindi molto contento e voglioso di vedere all'opera questi bravissimi attori e poi se ci sarà occasione appunto magari rincontro Massimiliano Gallo e glielo dico quello che penso. Lasciate like, ve lo ripeto, iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao.